Questo obiettivo nello specifico è quello di creare uno spazio di cura più adeguato con una sala relax che verrà realizzata all'interno della degenza dell'oncologia medica di Teramo. Abbiamo intenzione di fare in modo che lì i pazienti possano ascoltare musica, possano leggere un buon libro e possano accogliere in maniera un po' più aperta, in uno spazio più aperto ai loro familiari. Questo è da tempo nei reparti di oncologia un po' una criticità perché l'accesso non può essere mai troppo libero per una serie di motivi sanitari e quindi avere questo spazio costruito per loro riteniamo che possa essere uno dei tanti tasselli che servono a migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti e i loro percorsi. In questi momenti di vita il supporto psicologico rappresenta proprio il raccordo tra quello che è il mondo della persona, la famiglia e il mondo della cura che arriva in ospedale attraverso i medici. È un momento delicatissimo quindi tutto quello che è accoglienza, punto di riferimento, porto sicuro anche per quelle piccole grandi domande che poi effettivamente insorgono la notte durante il paziente, nei momenti di angoscia, quelle domande inconfezzabili tra virgolette che il paziente si trova in qualche modo a sperimentare. Il mondo ospedaliero è sempre molto marginale rispetto alla vita fuori e in questi momenti i ricoveri spesso non sono proprio brevi quindi offrire alla famiglia un posto sicuro, accogliente dove poter dialogare nella privacy, dove potersi regalare anche un momento di convivialità spensierato, anche un momento che non è soltanto legato all'aspetto medico ma anche all'utico ricreativo, un ascolto della musica, giocare a carte con il familiare, insomma sono attimi importanti che vanno curati all'essenza. Il ruolo dell'alimentazione è fondamentale e forse alle volte anche poco considerato. L'alimentazione è fondamentale sia nella fase della prevenzione ma anche soprattutto poi nella fase della malattia. studiare un piano nutrizionale sulla persona che sta facendo determinate cure e quindi sta assumendo determinati farmaci può essere fondamentale per dare aiuto e sostegno proprio alle cure ed evitare quello che è la cosa che spesso troviamo nei pazienti che purtroppo fanno la chemio e che si sottopongono alle cure che è la sorcopenia, quindi la perdita fondamentalmente della massa muscolare. Quindi intervenire per giusto tempo può allungare anche nei casi più gravi di mesi magari la sopravvivenza del paziente.